Sono situazioni dolci e tragiche che si scompongono in molecole fantastiche come quei mondi assai distanti che si avvicinano con gli anni sono situazioni che confondono che ti trasmettono messaggi indecifrabili con un parlare quasi mai normale ma con quel suono abituale ed il linguaggio adesso è musica e si racconta mentre scivola di fretta dice mentre corre via faccio del tutto perché sia poesia prendo la donna e la accompagno mentre gli parlo di una nostalgia lei zitta ascolta aspetta solida mi scruta gli occhi ed è un po' rigida sono situazioni e c'è da piangere e poco tempo per riflettere cantandole come le vite che si spengono come i discorsi per telefono io la mia penna la accompagno mentre descrive in due parole un sogno e zitto guardo mentre il foglio bianco assorbe tracce di pensieri e suoni ed il linguaggio adesso è musica e si racconta mentre scivola di fretta dice mentre corre via faccio del tutto perché sia poesia e il linguaggio adesso è musica E si racconta mentre scivola, di fretta dice mentre corre via Faccio del tutto perché sia poesia, prendo la donna e l'accompagno Mentre gli parlo di una nostalgia, lei zitta ascolta, aspetta a solidà Mi scluta gli occhi ed è un po' rigida Franco Tortora